Sì, sicuramente, ma più che della partita in sé stessa sono soddisfatto del gruppo, della squadra che abbiamo, dei ragazzi che oggi possiamo dire che abbiamo degli uomini prima ancora che dei calciatori. Stiamo girando alla grande, è un gruppo solo, è un gruppo che è un gruppo che è un gruppo solido, unito, siamo un'unica grande famiglia e questo poi è quello che mi rende più orgoglioso perché facciamo calcio per passione, per divertirci e per fare qualcosa di buono anche per la città e sembra che i numeri ci dicono che ci stiamo riuscendo. Parlavamo prima anche con il mister, la rosa è davvero completa, in ogni reparto ci sono almeno due giocatori importanti, c'è quasi l'imbarazzo per la scelta per il mister. Sì, è vero, hai detto benissimo, oggi abbiamo una squadra che è competitivissima e completa, soprattutto in ogni suo reparto. Abbiamo degli esterni che sono veramente fantastici, abbiamo una difesa che secondo me è forse numeri alla mano, è una delle più solide di tutto il campionato. Abbiamo un attacco strepitoso oggi con l'arrivo di Guerra che sta cominciando a fare anche lui la differenza, insieme ad Auricchio e Di Tuccio che oggi purtroppo è ancora infortunato, abbiamo un centrocampo che sta crescendo tantissimo, abbiamo oggi una squadra completa a 360 gradi. Presidente, anche oggi poi, nonostante il freddo, a meno 4-500 di spettatori presenti sugli spalti. Sì, questa è un'altra grande soddisfazione, forse anche qualche numero in più, penso che oggi c'erano almeno 6-700 persone, voglio dire nonostante il freddo, oggi fa un freddo glaciale qui a Casorio, penso un po' in tutta Italia, e nonostante tutto sono accorsi tutti a vedere la propria squadra del cuore, non le ha fermato neanche il freddo. Devo dire ancora grazie a loro perché è uno dei motivi fondamentali per cui facciamo calcio, quindi ancora grazie a tutti.